La decisione scaturisce dalla constatazione di una condizione di difficoltà della comunità per le vicende amministrative degli ultimi anni e quindi come senso di appartenenza ho ravvisato quasi il dovere di rassegnare all'elettorato questa mia disponibilità una disponibilità che ovviamente è legata a un patrimonio oramai consolidato negli anni di conoscenze, di esperienze, di professionalità che voglio mettere appunto a disposizione della mia terra nei confronti della quale ho qualche colpa da farmi perdonare perché dopo un penedo in interrotto di presenza in amministrazione per la concomitanza della carica di consigliere regionale ripeto l'attenzione per Sant'Arsenio si è molto ridotta quindi trovandomi attualmente con il tempo disponibile per potermi dedicare con l'abnegazione e l'impegno di sempre alla cosa pubblica ho voluto manifestare questo intendimento che tra l'altro è passato attraverso una lunga consultazione con tutte le componenti del tessuto economico, sociale, produttivo, professionale e culturale di Sant'Arsenio mi auguro che questa posizione possa essere valutata nella maniera giusta dal corpo elettorale e come sempre ho fatto mi rimetterò al suo insindacabile giudizio diciamo la lista è un misto mix di esperienza e di new entry nel senso che abbiamo dei giovani che sono vogliosi di mettersi in gioco e abbiamo anche delle presenze più consolidate con qualche presenza precedente io intendo e intenderò svolgere essenzialmente un ruolo di regista e di coordinatore per definire con esattezza le linee di intervento e di presenza attiva una presenza che è scemata un po' ultimamente anche a livello di rappresentanza politica negli enti comprensoriali dove è giusto che Sant'Arsenio riassuma un ruolo di centralità e di protagonismo quindi da parte mia ci sarà come ho sempre dimostrato ci sarà tutta la predisposizione ad operare in bene tra l'altro penso di conoscere abbastanza bene i meccanismi della burocrazia e soprattutto i luoghi decisionali a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale dove sarà necessario intervenire soprattutto per drenare una grossa disponibilità di risorse finanziarie che poi saranno necessarie per rimettere in moto la macchina dello sviluppo e quindi ridare a Sant'Arsenio come abbiamo anche spiegato nel programma che è il ruolo che compete anche per storia e per tradizione se dovesse scegliere tre vocaboli per definire i suoi principali obiettivi i miei principali obiettivi sono sicuramente quelle di efficientare innanzitutto la macchina amministrativa che deve essere al passo con i tempi e deve utilizzare nel modo migliore possibile tutto ciò che viene messo a nostra disposizione dal mondo dell'informatica e della comunicazione poi una rivisedazione in efficientamento di tutti i servizi pubblici e di tutte le strutture che sono di proprietà del comune che vanno capitalizzate, cioè debbono divenire occasione e possibilità di sviluppo e noi abbiamo questi contenitori, sono tanti e su questo bisogna lavorare con grande impegno